Allora oggi sono qui per parlarvi di design biometrico per giochi casuali e mi chiamo Stefano, lavoro da sei anni per un politecnico in Olanda e mi occupo di ricerca e di produzione di videogiochi. Non contento, sto anche facendo un dottorato in filosofia di cui vedrete dei riflessi in questa presentazione. Mi scuso per l'oscurità della slide ma purtroppo non potevo immaginare sarebbe stato così. Prima di iniziare a lavorare in Accademia ho lavorato ad alcuni videogiochi, forse alcuni li conoscerete, è un tennis per la Amiga 500, un'avventura a punta e clic, anzi due avventure a punta e clic, altri progetti come per esempio il porting su Game Boy Advance di due classici come Paperboy e Rampage, un'altra avventura per DVD games non so se l'avete giocate o se siete familiari con qualcuno di questi giochi e altri giochi che forse avete odiato nel passato perché erano pieni di bugs. Oggi vi parlo di un gioco in particolare che è l'ultimo a cui ho lavorato che è quello di cui porto la maglietta oggi e non lo faccio per vanto o perché sia un gioco particolarmente interessante ma ne parlo in una conferenza tecnica come questa perché il gioco è stato diciamo il substrato per una serie di esperimenti che abbiamo fatto di carattere appunto biometrico e che sono abbastanza di pionieristici per l'industria in cui lavoriamo. Quindi nella prima parte della lezione vi spiegherò in grosso modo come funziona il videogioco e poi che tipo di esperimenti abbiamo realizzato sul funzionamento del gioco stesso. Prima di parlare del gioco però bisogna fare un passo indietro di circa 250 anni quando questo bell'imbusto scozzese David Hume scrive un saggio sulla comprensione, sull'intelletto umano. Ritengo sia particolarmente interessante parlare di questo saggio perché il gioco in un certo senso si fonda sul punto di vista di questo saggio. Cosa dice David Hume? Hume considera il fatto che si possa ottenere di entità al mondo come per esempio un cavallo un'idea semplice. Cosa significa un'idea semplice? Significa un'idea che riusciamo a costruire nella nostra mente utilizzando impressioni sensoriali, cioè attraverso l'esperienza sensibile. Il fatto che un cavallo esista nel mondo e noi possiamo toccarlo, cavalcarlo, vedere quanto sia grande, come si muova, persino cavalcarlo, ci permette di avere un'idea semplice del cavallo. Chiaramente questo esempio non vale solo per il cavallo, può valere per la sabbia, la spiaggia o altri animali come per esempio l'aquila. Sta facendo un po' di casino il microfono, forse è meglio se mi sentite lo stesso? No? Ok, continuiamo così. Quindi possiamo avere un'idea semplice di un cavallo, precisamente perché esiste, di un'aquila, ma non possiamo avere un'idea semplice di un pegaso, per esempio. Questo è appunto perché non riusciamo ad avere un'esperienza sensibile di cosa questo essere sia. Però comunque riusciamo a immaginarlo. Il fatto stesso che si parli di pegaso o comunque siano creature che sono popolari nei miti e leggende, si basa proprio sul concetto di immaginazione per come lo vede Hume, ovvero tante immagini semplici, tante idee semplici che abbiamo nella testa possono comunque essere combinate anche senza necessaria relazione con il mondo sensibile. Questo è il caso per esempio del pegaso. Ne consegue che tutti i poteri creativi della mente è in qualche modo, secondo David Hume, relegato al tipo di esperienza del mondo che uno ha avuto. possiamo fare un esperimento qui, per esempio, se vi chiedo di pensare a un colore che non avete mai visto. Tutti quanti hanno un po' di problemi, no? Perché appunto riusciamo solo... meglio di no. Vado avanti senza? Vabbè. Quindi, possiamo... e quello che abbiamo detto di riguardo al pegaso, cioè il tipo di esperienza, di idea complessa che questo rappresenta la possibilità di pensare al pegaso non è solamente limitabile al pegaso, ma chiaramente vale per tantissime altre creature che avrete sicuramente visto o di cui avrete sentito parlare nei miti, nelle leggende, per esempio la chimera greca, il minotauro nei miti cretesi, arpie, centauri, sirene e mostri marini, eccetera, eccetera. E ciò non si limita solamente alla cultura greca o cretesi, ma come vedete, per esempio, creature assire hanno comunque mischiato uccelli, tori e uomini, in quella egizia e persino in età più contemporanea abbiamo questi esempi di, diciamo, chimere. Quando questo tipo di chimere hanno una testa di uomo, generalmente, o di donna, vengono identificate col nome di sfingi, no? E abbiamo familiarità con, per esempio, la sfinge egizia e la sfinge greca. In particolare mi interessa parlare di questa sfinge appunto perché forse non sapete che nel Rinascimento questo tipo di creatura fantastica o questo tipo di rappresentazione ha assunto il simbolo della creatività stessa. Fa un po' ridere perché appunto si allinea benissimo quanto detto da Uomo, ovvero che in effetti non esiste creatività se non combinazioni di idee semplici rilevate dal mondo. L'icona del mio gioco che avete anche qui dietro è una sfinge a sua volta, proprio perché il gioco si fonda su questo stesso concetto. Non sono il primo ad aver usato creature di tipo combinatorio nei videogiochi, anzi, quelle che si riferiscono alla mitologia direttamente come, o diciamo, pseudo direttamente come God of War, hanno chimere, cani e tre teste, e in questo senso c'è proprio una chimera di tipo classico. Lo stesso potete vedere se giocate a World of Warcraft in creature di qualsiasi genere di fantasia derivanti da miti e leggende nordiche quanto greche. In questo caso abbiamo un grifone che è una combinazione tra aquila e leone. Esistono poi videogiochi che si mettono il fuoco proprio sull'idea di combinatoriabilità delle bestie. In questo caso abbiamo un gioco che si chiama Impossible Creatures, in cui è possibile mischiare per esempio un coyote e una tarantola mischiandole in maniera creativa. O sicuramente conoscerete, o più da vicino, Spore, in cui l'idea di combinazione e moltiplicazione di parti conosciute e riconoscibili è un elemento chiave del gioco. Potrei andare avanti parlando anche per esempio di giochi horror, di come la riproduzione e ripetizione di parti del corpo umano ha spesso nel mondo del videogioco ricoperto un ruolo chiave nel suscitare sconforto, orrore. Per esempio questo è il caso di uno dei pupazzi di Silent Hill. Ma veniamo a parlare del gioco che ho sviluppato, quindi per poi parlare degli esperimenti che sono stati fatti a riguardo. Quello che il gioco che ho fatto chiede all'utente è quello di riuscire a riconoscere delle bestie di carta. Ci sono delle bestie di carta che camminano attraverso un libro e al giocatore vengono dati dei cubi con dei moduli di bestia in modo che il giocatore possa, prima che queste fuggano dal libro, riconoscerle. Al giocatore questo viene presentato con una sorta di sforzo scientifico. Avrei un trailer, speriamo tutto vada per il meglio. No, qualcosa è successo. Vabbè, il suono non sta funzionando, comunque lo stacco completamente, meglio così. Bestie passano, l'utente con le mani su questi cubi e il gioco è per iPad, permette di ricostruire le bestie e di farlo prima che queste lasciano il libro. Modi di gioco avanzati permettono di dare da mangiare alle bestie per rallentarle, allungarle, accorciarle, renderle più costose, eccetera. Ok, torniamo al nostro discorso. Quindi facciamo un esempio. Nessuno di noi ha avuto esperienza, presumo sensibile, di un T-ster-ster, che è appunto la testa di tigre, corpo di lobster e coda di lobster, però grazie al fatto appunto che la nostra mente funzioni almeno in parte per moduli, ci permette non solo di riconoscerla, ma anche di ricrearla. Quindi essenzialmente il gioco si fonda sull'idea di poter comunicare o fare imparare ad un utente qualsiasi, un bambino, un ragazzo, anche non interessati alla filosofia sperimentale, come funzioni questo punto di vista sulla mente. Per me questo gioco è stato un esperimento già crearlo appunto perché ho tentato di fare un gioco che sostituisse concetti filosofici o fosse in grado di distribuire concetti filosofici. Questo aveva anche il bonus aggiuntivo del fatto che in generale chiunque studi filosofia o legga filosofia lo fa su un testo e il fatto che il pensiero venga ridotto a testo o venga trasformato in testo ha delle limitazioni e degli effetti su quello che può essere pensato e così via. Quindi come parte della mia tesi di dottorato sto cercando di fare giochi che appunto riescano a riprodurre concetti filosofici o a riproporre problemi filosofici in maniera interattiva. Questo però esula dall'idea di biometria e molti di voi si saranno resi conto che fino adesso il titolo dello speech non ha nulla a che fare con quello di cui devo parlarne e mi rendo anche conto che molti di voi qui siano tecnici e programmatori e che quindi l'unico filosofo a cui siete interessati sia l'ultimo di questa lista che è popolare su internet. Quindi veniamo al dunque. Io ho creato questo gioco in cui delle bestie con diverse velocità e diverse composizioni cercano di attraversare una pagina e il giocatore deve cercare di fermarli riconoscendoli, cioè quindi facendo un esperimento di carattere tassonomico. Abbiamo deciso di realizzare questo gioco con i fondi dell'università per cui lavoro aggiungendo un altro livello sperimentale che è quello appunto di provare a tarare questo gioco grazie alla biometria e molti di voi, mi presumo anche se il motivo per cui siate qui, è che non sapete esattamente di cosa si tratti ma probabilmente suona interessante. Il modo più semplice che ho per spiegare a gente che non ha mai sentito parlare di questi argomenti di biometria è cercare di fare un'analogia con qualcosa che potete già conoscere per esempio tra film e serie televisive, una macchina della verità. Cosa succede normalmente in una macchina della verità? Un soggetto viene collegato a un certo numero, un certo tipo di sensori. Questi sensori leggono l'andamento di certe funzioni corporali, per esempio la sudorazione, l'aumento del battito cardiaco, il ritmo della respirazione, la dilatazione della pupilla, mentre questo soggetto ha una certa esperienza. L'esperienza può essere venire... come si dice? Questioned? Non mi ricordo più italiano. Scusa? Interrogato da un ricercatore. Questo tipo di metodologia per esempio è usata anche nella visualizzazione di spot televisivi o di tipo di pubblicità, anche perché permette di capire esattamente dove l'utente, non il giocatore in questo caso, stia guardando, dove abbia dei picchi emotivi nel caso, eccetera. Nel nostro caso l'abbiamo usato per realizzare un gioco casual. Il fondamentale, credo, alla base della possibilità di utilizzare questa tecnologia è il fatto che stati interni di un utente o di uno spettatore di qualcosa, di nuovo può essere utilizzato per una ampia gamma di fenomeni, che questi stati interni abbiano un qualche modo di manifestarsi all'esterno e che quindi, riuscendo a mappare cosa sta succedendo corporalmente in un utente, riusciamo in un certo senso ad avere un'indicazione di cosa sta succedendo psichicamente all'interno di questa persona. Probabilmente sarete familiari col film Blade Runner in cui più o meno macchinari dello stesso tipo venivano utilizzati per discernere se un individuo fosse un robot o in effetti avesse reazioni corporali umane. Il nostro setup invece era più o meno di questo tipo e chiedo scusa a Marcello per mostrare questa foto, non gli piace che la faccia vedere. In ogni caso credo sia una foto utile perché fa vedere essenzialmente tutti i tipi di sensori che abbiamo usato in questo particolare esperimento. Sulle dita vedete che ci sono per esempio tre sensori, uno dei quali è un cardiofrequenzimetro con anche la capacità di vedere la dilatazione dei vasi sanguigni, gli altri due sono elettrodi che misurano essenzialmente la conduttanza della pelle e quindi il livello di sudorazione. Sulla faccia vedete due sensori capaci di registrare il potenziale elettrico che passa tra i muscoli, quindi essenzialmente la stessa tecnologia che sta alla base dell'elettromiografia se ne avete mai fatte. Sulla faccia di Marcello vedete anche degli occhiali che sono stati usati in altri esperimenti per verificare la contrazione della pupilla o la dilatazione della pupilla stessa. Ora, un altro caveat prima di iniziare a parlare degli esperimenti stessi è che questo tipo di tecnologia è già stata usata nel campo del gaming, solo non è mai stata usata nel campo del gaming casual. Mi spiego meglio, probabilmente conoscete i lavori di Valve o di EA Sports, sì, Left 4 Dead, Half-Life. I giochi a cui faccio riferimento e che hanno usato questo tipo di tecnologia in processi produttivi, generalmente sono giochi il cui generi sono abbastanza facilmente leggibili dalla biometria, proprio perché si fondano su creare eccitazione di carattere, cioè emozioni di carattere eccitativo. Si chiamano anche giochi ad alta intensità proprio perché è facile vederne la crescita dal punto di vista di stress e di attenzione. Invece noi lavoriamo con dei giochi che sono effettivamente fuori da questo range, per esempio parliamo di avventure punta e clicca, puzzle games, hidden object games, time management games e giochi di questo genere che non hanno necessariamente l'intensità dimensionale che hanno per esempio i giochi di cui ho parlato prima, quindi shooter o simulatori sportivi o simulatori di guida. Se avete giocato entrambi i generi vi rendete conto del differente investimento emotivo che avete in questi giochi. Quindi la ricerca che abbiamo lanciato in un certo senso si pone questo quesito. È possibile adoperare questo tipo di tecnologie che hanno già dato vantaggi in pubblicità e in giochi ad alta intensità, anche in giochi che non sono ad alta intensità? I pro di questo tipo di uso si possono ridurre a quattro punti essenziali. Il primo che dà una misurazione continua dello stato fisico, quindi per esempio in ogni istante della tua esperienza di gioco io so come andava la tua frequenza cardiaca, come andava la tua sudorazione, quanto estesa era la tua area della pupilla e quanto frequentemente respiravi. In contraddizionali pratiche di quality assurance nel mondo videoludico di solito i test si fanno o misurando la performance in gioco o con questionari alla fine o una combinazione di questi due. Capite benissimo che dal punto di vista del giocatore dopo una sessione di sette minuti è difficile ricordare come vi sentivate o che tipo di atteggiamento avevate nei confronti del gioco al secondo minuto. Questo tipo di test invece ci permette di tenere un track continuo dello stato del giocatore, permette anche di rilevare comportamenti non desiderabili. È oggettivo quindi non dipende dal fatto, dalla possibilità di mentire o dal fatto che un giocatore abbia dei bias nel confronto di un genere o di uno sviluppatore. Infatti è possibile controllare il corpo ma non durante un altro task. Anche gente per esempio molto esperta di yoga potrebbe riuscire ad abbassare il battito cardiaco o la sudorazione ma non mentre impegnate in un altro task. Quindi non abbiamo mai visto nessuno essere in grado di bleffare a un test biometrico. È anche per questo motivo che spesso la macchina della verità viene utilizzata come in effetti una prova giudiziaria. Può funzionare molto bene a contatto con tradizionali pratiche di quality assurance come per esempio play testing, game testing, user metrics e blind testing e l'abbiamo usato in relazione a queste cose e offre insights che non sono tipici delle altre quality assurance practice. Quindi vedendo questa lista uno dice beh perché non farlo direttamente nel senso ci dà una dimensione in più, potrebbe farci notare cose che non sono notabili normalmente, non dobbiamo fidarci di quello che ci dice il giocatore ma c'è una macchina che ci permette di leggere esattamente quello che sta succedendo. Ci sono anche degli shortcomings, dei difetti nell'uso di questo sistema. Uno di questi è il fatto che al momento, mi sentite? Al momento, vabbè scusa purtroppo, al momento questo setup sia abbastanza costoso. Quindi fino a due anni fa costava 16 mila euro più o meno tutto il pacchetto che stiamo usando. Già adesso costa 6 mila euro, 10 mila euro in meno in due anni. Quindi sta diventando più vicino a consumer technology. Se pensate per esempio al Wii, tra le varie piattaforme, la possibilità di registrare il battito cardiaco e la frequenza cardiaca, capite già come ci si sta muovendo verso un user, un valore user diciamo di questa tecnologia. C'è un sacco di noise come in questa stanza, nel senso che stiamo parlando di relazioni corporali. Se questa stanza diventasse più calda di qualche grado, probabilmente inizierei a sudare e probabilmente per gli scienziati che mi stanno osservando, risulterei essere più agitato di quanto in effetti sia. Lo stesso per esempio se ci fosse luce naturale in questa stanza. È chiaro che un raggio di sole che entra repentinamente nella stanza necessariamente coinvolge una reazione della mia pupilla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto facile falsificarlo se non si è attenti a limitare il noise nell'ambiente di sviluppo. ci vuole un programmatore o uno statistico per fare data crunching e al momento non esiste letteratura nel campo specifico dell'applicazione per casual games di queste cose. Quindi essenzialmente stiamo scrivendo noi la bibliografia in questo momento. Abbiamo due paper in uscita con ACM il mese prossimo, uno a maggio e uno a giugno. Se siete interessati all'aspetto più tecnico e programmatoriale di quello che stiamo facendo potete leggere i due paper. Se mettete biometria casual games o guà, stanghetta, le, ni, riuscite a trovarli certamente. Sono gli indici per cui li abbiamo registrati. Torniamo quindi al gioco. Ho un gioco in cui la velocità aumenta, le bestie diventano più complesse e al giocatore viene richiesto di manipolare dei cubi per ricostruire queste bestie. Molto bene. Come designer, dal mio punto di vista, la prima cosa che voglio tarare è dopo il tutorial, cioè quando ti ho insegnato a manipolare questi cubi fisicamente. Quanto è difficile per te riuscire a ricordare su che facce è per esempio il corpo del facocero e la testa del rinoceronte. In che modo posso fare sì che appena il gioco inizi, l'esperienza che tu abbia sia non necessariamente minacciosa e tremenda, ma nemmeno sia triviale. Da un lato il gioco risulterebbe ostile in un certo senso e dall'altro risulterebbe una, pardonate il termine, minchiata. Se posso far girare tutte le combinazioni possibili in un tempo infinito, capite che si va nel teorema delle scimmie che battono su tasti di macchine da scrivere. Quindi la mia prima domanda è, nello strutturare i primi test, come posso tarare la velocità in modo che si arrivi a un grado di eccitazione, un grado di difficoltà, tale per cui i miei giocatori rispondano positivamente, che non siano troppo stressati e che non siano annoiati dalla trivialità del tutto. Abbiamo organizzato quindi così i primi test, con la domanda appunto, qual è l'ottimale velocità di camminamento per una bestia da due che è la prima che ti arriva? Appena hai finito il tutorial, quindi ho uno stato iniziale, ho una domanda di ricerca, devo strutturare un esperimento. La prima cosa che abbiamo fatto è creare due gruppi tra i nostri tester e dare ad uno la velocità che ho inventato io da design perché avevo provato con delle bestie di carta e dei cubi fatti di cartone, avevo capito che più o meno 24 secondi fossero un valore accettabile, proprio provandoci, no? E poi abbiamo una velocità che ho aumentato di 25% sempre arbitrariamente per vedere la differenza che sarebbe emersa dai primi risultati tra queste due velocità. I due gruppi non sono stati mischiati ma hanno le stesse caratteristiche, sono stati scelti perché potevano essere nello stesso target audience del gioco. In generale si parla di donne tra i 25 e 45 anni senza un'esperienza videoludica su console, quindi andava benissimo handheld device, web page gaming andava benissimo, ma quello era il massimo dell'esperienza necessaria. Ok? Quindi abbiamo fatto dei test, questa era la prima versione del nostro laboratorio, ora siamo in un'altra stanza, vedete anche per esempio la luce solare è stata oscurata giusto per raccontarvi una cosa, o per esempio che usiamo lampade alogene perché le lampade al neon non creano interferenze di tipo elettromagnetico. Nel caso voleste mai provare non usate le lampade al neon. Qui c'è Marta che gioca e lei è stato uno dei primissimi tester di questo gioco e vedete che stiamo misurando due dimensioni in particolare, frequenza cardiaca, tre dimensioni, frequenza cardiaca, dilatazione dei capillari e conduttività della pelle. Abbiamo avuto un piccolo problema perché chiaramente giocare con i sensori attaccati alla pelle non è come giocare con un normale controller, però abbiamo anche strutturato il gioco perché potesse essere possibile giocarlo con una mano appena e quindi abbiamo chiesto ai nostri tester fate finta di averla persa, questa, e giocate solo con una mano. Invece di dover tenere l'iPad l'abbiamo scocciato al tavolo. Abbiamo ottenuto chiaramente i grafici di cui vi parlavo prima e abbiamo ottenuto delle risposte. Rispetto ad altri giochi casual che abbiamo usato come controllo, come si dice, elemento di controllo, è risultato che giocando a questo gioco in generale avevamo risultati superiori dal punto di vista di stress. Confrontando le risposte biometriche con le risposte dei questionari abbiamo rilevato che per tutti quanti i giocatori la velocità era troppo alta, persino quelli di 30 secondi che consideravano il gioco troppo poco accogliente. E questo è il risultato anche dai livelli di ansietà che abbiamo registrato con l'avvento di queste prime bestie a due moduli. L'effetto è stato quello di dire, benissimo, alziamolo ulteriormente e nel prossimo set di esperimenti faremo anche una validazione di questo risultato. Quindi tra 24 e 30 nessuno era soddisfacente, proviamo a 34, vediamo se poi comparandoli con questi iniziali test abbiamo un risultato accettabile. Abbiamo anche notato che c'erano degli spike emotivi durante il gioco che non erano particolarmente spiegabili dal punto di vista di gameplay. Quindi nella costituzione del secondo esperimento abbiamo detto prima cosa validiamo la velocità e se riusciamo cerchiamo anche di vedere che cavolo erano queste spike che proprio non erano in relazione al game over, non erano in relazione alla prima bestia, randomicamente apparivano nelle bestie di mezzo. Quindi, di nuovo, il secondo test è stato costruito per validare la velocità iniziale, una volta settata la velocità iniziale abbiamo potuto lavorare sull'accelerazione della bestie in un modo simile e appunto che ne facciamo di questi spike? Da cosa derivano e cosa sta succedendo nei nostri giocatori? Abbiamo ricominciato a testare con una versione successiva con la velocità 34 e abbiamo ottenuto grafici di questo genere. Ora, per farvi un esempio su come le analisi su questi grafici sono stati fatti, vi porterò attraverso un grafico di una persona in modo che riusciate, per esempio, ad avere un'idea di come leggerli. Questo è il grafico della skin conductance del partecipante 35 al secondo test. Come si legge questo grafico? Ogni linea è un game over, quindi questa persona ha giocato nei dieci minuti che abbiamo testato circa tre partite, il resto non so perché è stato tagliato al ricercatore, comunque questo è quello che abbiamo per questo soggetto. Ogni punto rappresenta una bestia, ogni punto blu è una bestia a velocità base e ogni punto rosso è una bestia che è già accelerato rispetto alla velocità base. Guardiamo questa prima partita, cioè fino a questo game over, ok? Quello che succede è, alla fine del tutorial, il nostro soggetto era molto teso, non sapeva cosa aspettarsi, è riuscito con successo a beccarne una, a riconoscerne una, la seconda, la terza, il compito diventa più semplice e vedete che la conduttività della pelle, che normalmente si relaziona nei giochi d'azione allo stress dovuto alla performance, si è abbassata. arriva una bestia che è accelerata rispetto alle altre, quindi è un po' più veloce. Il tempo di latenza della skin conductance è circa due secondi, quindi ci mette due secondi la tua pelle a reagire a un effettivo stato di incrementato stress, appunto perché ci vuole per un po' per le ghiandole sudorifere a emettere il sudore, a spargersi sulla pelle, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente questo va già causato, questa bestia accelerata va già causato uno stress che ha portato al game over. Il game over risulta essere lo stato più alto di questa prima giocata, no? Seconda, seconda giocata. Cala, 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 di nuovo, ah, ormai la bestia a livello base pare essere assodata, insomma non pare dimostrare più difficoltà, vediamo che appena inizia a accelerare, invece che una impennata di questo genere, abbiamo un'impennata un po' più piatta. Dopo quattro bestie però la parata accelera nuovamente e cominciamo a rivedere un innalzamento di stress. Questo giocatore è riuscito ad arrivare alla terza accelerazione e alla seconda partita. Guardando questo ultimo pezzo di analisi vediamo che c'è un comportamento molto simile. Nelle bestie lente ormai la sudorazione scende, c'è un periodo di stasi, ormai si vede il giocatore riuscito a digerire quella seconda accelerazione, comincia a impennarsi alla terza accelerazione e alla quarta il giocatore finisce col perdere. Parlando tra i due designer del gioco di cui io ero uno, avevamo settato l'obiettivo per cui dopo due o tre partite si dovesse arrivare verso i tre minuti di gioco, che generalmente è considerato nella ricerca su Casual Game un perfetto bite size, non so sapete cosa voglia dire. Una partita di un gioco casuale generalmente dovrebbe durare per ottenere il massimo risultato circa tre minuti, cioè il massimo della, come si può dire, soddisfazione istantanea. Immaginate andare a un McDonald's e quello è il tipo di esperienza che potete avere. Sempre lo stesso tipo di letteratura si connette all'upper hand del Casual Gaming e generalmente viene consigliato di fare dei giochi che non durino più di 20 minuti, perché è stato considerato che gran parte delle persone che gioca Casual Games generalmente lo fanno in una pausa prima di cucinare o stare dietro ai figli o durante commuting e generalmente queste pause vanno dal 5 ai 20 minuti. Difficilmente un giocatore Casual vuole una partita che duri più di 5 minuti e difficilmente sono soddisfatti con una partita a meno di 3 minuti. Quindi la mia idea era appena inizi a giocare dopo 3 partite già sei in un certo senso in quella zona in cui volevo tu fossi e il mio gruppo di hardcore testere, ce ne sono due che sono stati così gentili da venire, non hanno mai superato, io compreso, la soglia dei 21 minuti. In tutto sommato dal punto di vista dell'accelerazione siamo stati contenti. Era esattamente quello che volevamo da design. Tuttavia la risposta a questionari relativi alla velocità e in generale il livello di stress è molto alto rispetto ad altri giochi casual che abbiamo testato a lato di questo gioco. Questo porterà delle conclusioni, insomma. Qui vedete lo stesso tracciato, la stessa partita, lo stesso utente, cioè vedete che sono esattamente gli stessi punti, ma stiamo misurando qualcosa di diverso. In questo caso stiamo misurando un muscolo che si chiama Zigomaticus Mayer che si attacca allo zigomo e fino ai bordi della bocca e è responsabile per i sorrisi. Noi avevamo, come si dice, si sente? Mi sentite? Avevamo testato due tipi di esperimenti miografici, cioè uno per il sorriso e uno per il frowning, cioè il corrucciare la fronte, si dice. E quindi avevamo due gruppi muscolari, uno che si chiama appunto il Corrugator e l'altro lo Zigomaticus Mayer. Quello che vediamo qui è che le quattro bestie lente sono passate e abbiamo un grosso sorriso durante il game over. Però c'è anche un grosso sorriso inaspettatamente la seconda bestia e non è granché spiegabile. Lo stesso possiamo vedere qui. Non è una bestia significativa dal mio punto di vista perché abbiamo già visto che al secondo esperimento l'analisi dello stress dava già come assodato la capacità di risolvere bestie di questo tipo. Vediamo per esempio una pattern che in ogni game over c'è stato un sorriso. Quello già ci ha dato un po' di sollievo perché parlando poi informalmente con i tester è risultato che il sorriso era dovuto al fatto che c'è una meccanica dei gioco che permette alla bestia di uscire tutta quanta fino all'ultimo pixel prima di essere game over. E questo dava al giocatore l'impressione di essere sempre a un passo dall'effettivamente farcela. Quindi è sempre un game over di tipo forse una girata di cubo in più e sarei riuscito a risolverla. Mentre di nuovo abbiamo questo problema di spikes che non sappiamo risolvere. Quello che abbiamo fatto è siamo andati a vedere a che tipo di bestie corrispondessero questi spikes. E in generale abbiamo notato una pattern che le bestie dove si notavano questo genere di spikes erano bestie in cui c'era una grossa differenza tra la dimensione della testa e quella del corpo. O una testa molto piccola, un corpo molto grosso. Per esempio nel caso tartaruga e bisonte. O nel caso contrario in cui per esempio facocero e condor in cui erano sbilanciate. Pare che la gente rispondesse positivamente appunto a questi sbilanciamenti. Cioè la bestia era particolarmente buffa. Questa cosa non era mai apparsa in interviste proprio perché nemmeno loro si erano accorti di questi piccoli tocchi di sorriso. A volte spikes di questo genere sono assolutamente inconsce. Quindi siamo riusciti a scoprirlo a posteriori riguardando il tipo di bestia di cui si stava parlando. Quindi il secondo test come risultati ha dato al designer l'informazione che 34 secondi era ancora troppo veloce ma l'accelerazione grosso modo si comportava come previsto da design. L'effetto finale è stato quello che la curva accelerazione è stata adattata a una velocità ancora più lenta. Quindi il gioco è stato rilasciato con una velocità iniziale di 36 secondi. Questa quantità non è stata poi testata in successivi test ma già 34 arrivava sufficientemente vicino ai livelli di stress di altri giochi che abbiamo testato per dirci soddisfatti. Il gioco al momento è stato rilasciato in una seconda versione. Dal punto di vista critico è stato molto ben accetto. Abbiamo un voto di Metacritic che è di 83%, quindi molto positivo. E quasi tutte le testate giornalistiche che si occupano di dare voti o di fare critica a casual games quindi giochi che si possono giocare e imparare semplicemente a giocare durante il trasporto mentre si va da lavoro su un device mobile di questo genere ha dato buonissimi risultati. Tuttavia al momento il gioco non sta vendendo molto bene. Negli ultimi due giorni il prezzo è stato abbassato da penso fossero 3 euro inizialmente settato dal marketing a 1 euro. Abbiamo venduto 60 copie ieri e 160 oggi che è un risultato che non avevamo mai visto. Quindi stiamo considerando l'idea che probabilmente il prezzo fosse uno dei grossi problemi di vendita. Considerate che il mercato dei mobile device è molto saturo e che gran parte di questa saturazione viene rinforzata dal fatto che molti di questi titoli siano assolutamente gratuiti. E quindi vedere un gioco che costa 3 euro e probabilmente doverci spendere del tempo non è così appetibile come quando il mercato per esempio era popolato da molti meno giochi o quando tutti i giochi erano a pagamento. Tra un mese circa stiamo per rilasciare una nuova versione in cui ci saranno anche pezzi disgustosi di essere umano che potranno iniziare a combinarsi con le effettive bestie e è una nuova modalità di gioco che non ha una componente action. Quindi speriamo di riuscire forse speriamo a toccare anche parte del mercato che con questo gioco che comunque è una componente action non siamo riusciti a toccare. Io spero con questo speech di avervi incuriosito sull'uso di queste tecnologie e di avervi mostrato che tutto sommato avendo grafici ben fatti dagli statistici che lavorano con voi non è difficile leggere pattern e riuscire a cercare di avere un insight nel gioco magari che è complementare a quello di quality assurance practices che già usate e che magari voi possiate usare per progetti che non siano necessariamente gaming. Se avete a che fare con un uomo o comunque un utente una parte umana che interagisce con il vostro sistema questo può darvi sicuramente un altro tipo di insight. La nostra università per i prossimi due anni continuerà a fare esperimenti in collaborazione con l'industria al momento stiamo facendolo solo con l'industria olandese ma siamo aperti a lavorare con chiunque di voi voglia farlo con il caveat che ovviamente è un esperimento principalmente universitario e che quindi al momento per esempio è una cosa interessante da dire il mercato casual o generalmente sviluppatori casual hanno cicli di sviluppo che sono al momento tra quelli che conosco io tra la settimana e le due settimane di sviluppo. Quindi se io sto facendo un gioco e sto rilasciando una nuova versione mi interessa avere risultati di carattere biometrico entro due settimane cioè prima del rilascio prima del rilascio della successiva build. Questo significa che dobbiamo essere in grado di testare un numero sufficiente di persone riuscire a fare analisi numerica su questo tipo di persone e eventualmente presentare una sorta di predigestione di questa analisi numerica ai designer prima che passino due settimane. Al momento il nostro tempismo è tra il mese e le tre settimane quindi non ci siamo ancora e se voleste lavorare con noi e aveste tempistiche del genere vi chiederemmo di adattarvi a quando riusciamo a farlo. Ovviamente il nostro framework diventa migliore di passaggio in passaggio e uno dei paper ICM che stiamo a pubblicare parla appunto del raffinamento del framework e di come tentiamo di arrivare a due settimane come ciclo effettivo. Oltre alla biometria spero di avervi incuriosito nei confronti del mio gioco e di che qualcuno di voi proverà a giocarlo anzi vi lancio una sorta di sfida anche perché sono abbastanza competitivo da questo punto di vista. Ho fatto questo risultato due settimane fa e posso migliorarlo al 10%. Se nel caso voleste provarci voi abbattermi anzi vedete che anche l'ho fatto in meno di 20 minuti quindi doppia felicità per me. Foste interessati a giocare e farmi sapere cosa ne pensate che altre cose vorreste vedere nel gioco o semplicemente che avete distrutto il mio record sono felice di sentirvi e se volete scrivermi il twitter a cui rispondiamo di compagnia è gualeni con underscore perché non è possibile usare hash in twitter. Vi ringrazio per l'attenzione e questo era tutto. Abbiamo qualche minuto per penso due o tre minuti per domande nel caso le abbiate a Ciro forse tu prima ad alta voce però perché mi chiedevo le misurazioni che avete effettuato sono molto utili per la fase di design del gioco e appunto per sperimentare bene i tempi necessari la mano è positiva però sono uniti di sensori che comunque in minima parte in minima parte posso fare delle misurazioni biometriche secondo te è utile in un certo senso leggere ad esempio la frequenza dei torque e degli errori che un utente fa per adattare che pre-determinare alcuni aspetti del gameplay o di frazione magari del rischio di minima quindi analisi dell'accelerometro è una domanda allora la domanda è oltre alla biometria si potrebbe utilizzare per esempio strumenti come l'accelerometro o per esempio il tilting o il riconoscimento del tatto che alcuni device già hanno per fare altri tipi di registrazioni la mia risposta è sì stiamo collaborando con delle compagnie che sviluppano per iPhone per esempio e nella loro sessione user metric cioè il fatto che il gioco riesca a catalogare e categorizzare e numerare tutto ciò che succede nel gioco stesso lo stanno già facendo il tipo di misurazione che diamo noi invece succede dal lato utente e quindi i due possono essere sicuramente combinati nel caso di Xylom non so se qualcuno di voi gioca Emily no? si chiama Emily Emily è un gioco che si incentra su una sorta di eroina che gestisce ristoranti eccetera eccetera mischia puzzle e azione stiamo cercando di avere questo tipo d'approccio nel loro particolare esperimento quindi usare il loro user metric come qualcosa a comparare a dati biometrici che succedono al tempo stesso un altro uso di questi stessi device potrebbe essere quello di dare input al gioco attraverso sensori biometrici si chiama biofeedback e stanno diverse case stanno occupando la stessa Valve o Dreams of Dano in Olanda stanno facendo cose del genere quindi ti vendono insieme al gioco un piccolo device e generalmente quello più credibile è il Galvanic Skin Conductance che abbiamo usato ti viene dato da legare a dita o magari ai lobby delle orecchie mentre si gioca e il tempo è finito ma abbiamo ancora qualche minuto e questo può dare feedback nel gioco nel senso può rendere il gioco più difficile o più facile o più chiaro o meno chiaro o più competitivo o meno competitivo a seconda di quanto stai già soffrendo insomma Ciro Ciro chiede se i valori sono influenzati da per esempio preesistenti stati di stress dal fatto che probabilmente anche il setup degli esperimenti causi stress e la risposta è sì chiaramente la letteratura cerca di rispondere a questo problema dando anche indicazioni di tipo normativo su come iniziare il test per esempio il fatto che ci siano dei questionari e dei momenti di pausa li facciamo andare al bagno prima immagina di essere testato mentre devi andare al bagno o sei stato ammolato dalla ragazza o hai un esame due ore dopo cerchiamo di ottenere dei tester che già non abbiano questo tipo di noise per cominciare e poi c'è una serie di procedure che atti a calmarli prima di cominciare il gioco c'è da dire che noi avevamo anche un gioco che cosiddetto potremmo chiamarlo fluffer se non fosse fosse volgare a cui facciamo giocare facendo finta di essere testati nel senso loro credono di essere testati e li facciamo giocare per qualche minuto senza necessariamente rilevare nessuna informazione e poi li mettiamo sul gioco per cui li stiamo testando senza che loro sappiano che c'è stato uno switch e già venendo da uno stato per cui sono abituati ad avere i sensori addosso sono entrati nell'ottica di essere una cavia da esperimento non è da zero a mettiti i sensori e vai gioca altrimenti ovviamente avremo dei valori sballati e sei arrivato in bici tutto sudato ti asciughi pare che non te ne frega un cacchio di quello che stai facendo capisci cosa voglio dire quindi c'è una sorta di procedura sia dal punto di vista di tempo sia dal punto di vista che limita questo noise è ovvio che è impossibile limitarlo del tutto immaginati di sentire una pallonata fuori e di essere ricordato bambino e preso una pallonata in faccia inizia probabilmente una sorta di pensieri potrebbero dare adito a pattern che non possiamo non sappiamo leggere però in linea di massima l'ambiente è sterile non ci sono suoni non c'è circolazione di aria percepibile non c'è luce naturale cerchiamo di calmarti di farti giocare prima ancora di testarti eccetera eccetera è una domanda molto pertinente che può essere risolta già dalla letteratura esistente grazie lo stesso mille grazie codemotion